cari amici in questi giorni sono tremendamente impegnato con tantissime cose da fare per cui non mi posso dedicare molto al canale questo comunque ovviamente mi dispiace perché alla fine beh i miei haters parlano e sparlano e la cosa che mi ha fastidio è che parlano dietro non hanno le palle gli attributi di parlare davanti sono parecchi queste persone parecchie perché comunque a me le cose me riportano quattro amici ancora ce li ho ma comunque tralasciando questo voglio farvi vedere questo video questo video che più che altro è una foto però poi ci metto anche un pochettino di quattro storie sempre del signorino 1737 che è il principe di questo canale penso che è proprio il numero 1 del trash però sta cadendo troppo in basso perché sfotte i carabinieri sfotta la guardia di finanza l'agenzia delle entrate facendo vedere questi soldi e poi secondo me i veri questi soldi possono essere due trecento euro tutti gli altri sono effettivamente possono anche essere veri ma anche se non c'è che senso ha io capisco il personaggio capisco tutto però forse lo abbiamo detto mille volte il video non è che si è superato il video però non è andato a passare il video vi lascio il video dopo la sigla ragazzi ricordatevi sempre che non è che siccome uno ha i soldi deve farsi i lavori devi pagarli fratele guarda 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 qua guarda qua sta arrivando il nuovo letto a grande richiesta vi presento il tavolino